The New Stories. La tua informazione libera. La mia figlia ha accompagnato la figlia acquisita all'altare, prima di esibirsi per gli ospiti al ricevimento. Nella splendida cornice del Canal Grande, Olivia è stata accompagnata all'altare sia dal padre biologico Edoardo Testa che dal patrigno Rosario Fiorello. Le immagini diffuse su Instagram mostrano un Fiorello visibilmente commosso mentre affianca la sposa. Dopo il rito, la coppia ha celebrato il matrimonio in una location da favola, tra momenti di festa e musica. Fiorello ha intrattenuto gli invitati cantando Il Mondo e non sarà un'avventura di Lucio Battisti durante il taglio della torta. Ansperto radice fossati con falonieri, di cui si è parlato anche sulle pagine del settimanale Chi, discende da una delle più antiche famiglie della nobiltà milanese ed è un professionista nel settore del marketing. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.